Negli episodi precedenti Joker è libero Non puoi scappare Joker Io ti troverò Ci conto, ma non è ancora il momento Ho dimenticato Se avevi in mente di seguirmi Ho pensato di prepararmi in anticipo Mentre noi siamo qui Il corto sta andando da Harley Devo tornare nel blocco di detenzione Bowles non è mai stato furbo Avrà lasciato qualche traccia Ha buttato per terra la fiaschetta Vediamo che cosa rileva lo scanner forense Posso seguire le tracce alcoliche Del barbon di Frank nell'aria Harley Quinn ha cercato di rallentarmi Mi ha fatto cadere addosso l'ascensore E ha funzionato? Ovviamente no Ti contattano appena arrivo in fondo alla pista Joker deve aver capito come sono riuscito a rintracciare Gordon Le impronte dell'agente Bowles si fermano qui Grazie a tutti 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 Un momento Non ferirti su quel ritratto così tagliente E così ce l'hai fatta Molto bene Questo l'avrebbe risolto anche un bambino Figuriamoci il detective più grande del mondo Batman, da questa parte. Ho visto che hai ripulito la stanza. È stato un massacro. Bowles è arrivato dicendo a tutti di sorvegliare l'ingresso anteriore. Ha detto che l'esercito di Joker stava passando dal cancello principale. Due dei miei si sono spostati verso l'uscita e Frank li ha ammazzati. Non hanno potuto reagire. Bowles era da solo? Pensavo di sì. Poi ho visto Harley Quinn. È stata circondata dai detenuti di Blackgate. Stavano ammazzando tutti quelli che erano nella stanza. Non avevo scelta. Sono venuto qui dentro e ho chiuso la porta chiave. Ma ho visto tutto dalle immagini della sicurezza. Avevano una persona con loro. Sembrava il commissario. Bowles è morto. Hanno continuato senza di lui. È durato più di quello che si meritava. Giusto. Era un verme. Mi spiace bello. Ci scusiamo per l'interruzione del programma. Jack Ryder chiede la linea dalla Baia di Gotham per un'edizione straordinaria. Buongiorno da Jack Ryder. Notizia flash dalla Baia di Gotham. Secondo un recente comunicato... L'isola di Arkham sarebbe sotto assedio. Due minuti fa Joker ha trasmesso a tutte le redazioni dei telegiornali questo messaggio anch'iacciante. Secondo un'edizione straordinaria. L'isola di Un'edizione straordinaria. Si no. Ora ascoltate ragazzi, Arlie ha pescato il giocattorino preferito di fatto al cuore dalla terapia etensiva, ma non voglio ancora che se ne vada dall'isola. Tutti gli scagnazzi, i criminali, gli assassini e le maestre d'assilo... E così i matti girano liberamente, avete bisogno di aiuto. Stai in guardia, me ne occupo io. Grazie al cielo sei tu, sei riuscito a prendere Joker? No, ma lo troverò. Tu resti qui e fermi tutti quelli che vogliono entrare. Come vuoi Batman, di qui non passerà nessuno. Oracle, disattiva il sistema di contromisure della Batmobile. Ho visto l'allarme, che cosa succede? Dove ti trovi? All'esterno della residenza di Arkham, deve essere stata Arlie Queen a far scattare l'allarme. Se Gordon è ancora con lei, potrebbe finire male. Ok, fatto. La Batmobile è ancora parcheggiata fuori dalla terapia intensiva a nord di Arkham. Ti ho mandato gli schemi di tutta l'isola. Ho contrassegnato i punti chiave, come la tua auto. Grazie, Oracle. Grazie, Oracle. Grazie, Oracle. Grazie, Oracle. C'è una dose di gel esplosivo nel baule della Batmobile. Potrebbe servirmi. Arlie ha distrutto la macchina. Sembra ci sia stata una zuffata. Devo perlustrare la zona intorno alla Batmobile. Potrebbe esserci un indizio che mi indichi dove ha portato Gordon. Vorrei esprimervi tutto il mio apprezzamento per il vostro lavoro. È un piacere starvi a guardare... Strano, questa è la pipa di Gordon. Gliel'ha regalata Barbara. Non l'avrebbe mai dimenticata in giro. Wild Country, il tabacco preferito di Gordon. È più furbo di quello che sembra. Mi ha lasciato una pista da seguire. Oracle, ho trovato una pipa. Ha le iniziali di tuo padre incise sopra. È il regalo che gli ho fatto all'ultimo compleanno. Non l'avrebbe mai lasciata in giro. Esatto. Mi ha voluto lasciare una pista. È vivo, Barbara. Le porte di sicurezza sono chiuse a chiave. Sono costretto a girare intorno. Spero di ritrovare la pista di Gordon dall'altra parte. Quel muro sembra abbastanza leggero. Posso usare il gel esplosivo per aprire un nuovo passaggio. Nessuno ha visto Batman. Batman? Parla subito, Barbara. È Batman! È veramente un idiota. Non dimenticate di frugare in ogni cantozzo. Dovete stanarvi tutti! Sta fermo mentre ti schiacci con la faccia per terra. Sempre un vecchio! Sempre un vecchio! Sì, 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 sì. Ehi, levati Batman, adesso tocca a me Dov'è Gordon? Non vuoi saperlo? Sono qui! Zitto! T'ha idiota Arley! Che cosa ci fa lui qui? È troppo presto Scusa biscottino, non arrabbiarti con me Oh, sfacciate Non riesco mai a tenerti il muso Mi spiace Batman, dovrai trovare un'altra entrata, ciao ciao Da questo cancello non si passa, devo trovare un'altra strada Perché gli servono i dottori? Devo salvarli Batman! Non parli, adesso è al sicuro Ma è una trappola! Lo so